Su indicazione della consulta del soccorso di Areo è operativo il laboratorio mobile di Ampas Lombardia che ci permette di eseguire i tamponi ai nostri soccorritori direttamente presso le associazioni, soccorritori sintomatici che sono venuti a contatto con pazienti positivi o sospetti tali. La finalità dell'ambulatorio è quello di ridurre il numero di attesa di soccorritori in quarantena. Stiamo girando tutte le province della regione, ospiti delle nostre associazioni, arrivati ogni mattina in un'associazione diversa, dobbiamo prima di tutto allestire il setting in modo pulito, sterile. L'esecuzione della manovra può sembrare relativamente facile e molto veloce, in realtà provoca sempre tosse, stannuti ed aumenta l'effetto droplet, e per questo motivo i nostri operatori devono essere completamente coperti e lavorare in sicurezza, nel rispetto delle norme, per evitare il contagio di se stessi e anche degli altri. Il nostro personale sanitario è stato addestrato dal personale di Areo, nello specifico dagli infermieri dell'AT di Brescia. Mi permetto di ringraziare Salvatore Compatti, che ha organizzato una sessione dedicata in tempi brevissimi per consentirci di iniziare il prima possibile. Gli ospedali civili di Brescia mettono a disposizione i loro laboratori gratuitamente e ci permettono di analizzare in tempi brevi circa 30 campioni al giorno.